Confrontarsi con la complessa realtà socio-culturale araba ed apprezzare il piacere della lettura fornendo gli strumenti per riscrivere esperienze ed emozioni, queste le due anime dei moduli portati avanti attraverso un progetto europeo degli studenti dell'Istituto Scientifico di Alcamo e particolari nell'intervista. Hanno mostrato una curiosità notevole, scoprire tutta una serie di tradizioni, storia della nostra terra che andrebbe valorizzata di più per permettere un po' a tutti di sentire l'appartenenza a questo mare mediterraneo. Quello che è l'aspetto storico, anche religioso dell'arabo, abbiamo anche perché ci sono un certo tipo di movimenti religiosi, perché certi stati hanno un certo tipo di politica. E poi serve anche comunque la lingua perché abbiamo questa realtà ogni giorno nella nostra quotidianità e quindi capire anche con chi si ha a che fare aiuta a una convivenza migliore. La scrittura è sostanzialmente quello, far conoscere anche un'espressione della propria anima, della propria storia che può servire a raccontarsi, a guardarsi allo specchio, conoscersi e riconoscersi. Secondo me è lo strumento che rende la scrittura qualcosa non solo di piacevole, ma di utile e di familiare per loro. Hanno cominciato a vedere la scrittura come qualcosa che può essere anche un farmaco per l'anima. Consente di circunnavigare la propria vita e di riportarla fuori attraverso le parole. L'esperienza che abbiamo anche, su cui ci siamo anche confrontati, per esempio condannate a morte, con le loro ultime lettere, i loro testamenti morali, ci ha fatto vedere come la scrittura riesce a fare evadere. Anche l'uomo chiuso in prigione, non esiste forma di prigione peggiore della censura. Cosa rimarrà secondo lei e questi ragazzi? Spero che rimarrà la compagnia della scrittura e spero che li aiuterà per tutta la loro vita. All'interno del modulo suoni e vibrazioni dell'anima, oggi abbiamo avuto come ospite Antonina Zotti. Incontrare Antonina Zotti in quella che è una settimana importantissima, ovvero la settimana della legalità. Il momento conclusivo di una serie di attività che sono state svolte all'interno della scuola. Questo modulo è stato incentrato sia sulla scrittura, ma soprattutto sulla lettura. Quello che vogliamo trasmettere ai nostri alunni è che l'italiano come disciplina scolastica non è finalizzata all'apprendimento di una serie di norme grammaticali o alla conoscenza di autori che a noi a volte non riescono neanche più a parlare, ma è trasmettere l'amore per la lettura e il coraggio della scrittura. Questo progetto PON, finanziato dall'Europa, ha offerto una serie di esperienze formative ai nostri ragazzi che non sono solite essere fatte nell'ambito del curriculum scolastico. È questo che arricchisce.